per di solito il tempo già capire come è stato strutturato quel tema che hai acquistato perché riscontravo problemi con l'utilizzo dei vari temi una volta utilizzavano un page builder una volta era page visual builder una volta era WP Bakery ogni volta ci stava qualche qualche cosa da studiare perché poi erano tutti diversi anche se in sostanza hanno poi tutta la stessa funzione nel momento in cui ho conosciuto Elementor che sono da tre anni a questa parte da quando è nato magari cioè tre o quattro anni non di più già dall'inizio ho visto un po' di potenzialità cose che hanno implementato che all'inizio non c'erano era la gestione di fooder e dell'Eder cose che all'inizio proprio quando è nato non potevi assolutamente fare sì ho visto anch'io questa funzione adesso tu puoi fare già il cambio del leader e del footer direttamente dalla pagina sì sì ho visto molto apprezzato molto apprezzato ma hanno sviluppato delle funzionalità che erano quasi impensabili prima con WordPress e con i temi che uno acquistava infatti ad oggi riesco a realizzare un sito e dato che io comunque sono un grafico realizzo prima tutto interamente la parte grafica quindi se un cliente ha qualsiasi un'esigenza necessità prima se doveva adattarmi a quello che era un template acquistato e quindi ero limitato a seguire un po' la struttura ad oggi io riesco a veramente a fare di tutto cioè e veramente mi lascia calcola che io propongo i siti li propongo in Adobe XD e che diciamo che per fare prototipazione in modo che prima definiamo la struttura grafica e poi dopo inizio a svilupparlo ma anche perché svilupparlo una volta che ho impostato bene tutta la struttura io ci metto veramente pochissimo tant'è che il sito dell'Apple home page dell'Apple è stata replicata in 30 minuti ovviamente lì avevo ho visto le sezioni comunque abbastanza semplici si tratta di sezioni massimo due colonne ho scaricato le immagini ovviamente adesso ho dovuto cancellare il sito vero perché altrimenti mi arrestavano e quindi vi posso mostrare un video velocizzato ovviamente non posso tenervi per 30 minuti e ho velocizzato in 3 minuti possiamo vedere come è stata replicata come è stata replicata l'home page senti un'altra cosa interessante che ho sentito nel diciamo nel webinar che ha preparato SiteGround su Elementor è la questione del lock-in non so se ne è ossia tante volte se tu usavi un page builder tipo Visual Composer o cose se dovevi spostarti da un'altra parte e usare un altro sistema ti trovavi fregato con i contenuti dovevi pulire togliere tutti i shortcode mentre invece qua sembra o da quello che ho visto ho sentito dire Elementor ha anche questa peculiarità quella proprio di poterti permettere se un giorno tu vuoi usare come Gutenberg come editor a parte che convivono benissimo entrambi ma poi se rispostare il sito sotto un altro tipo di page builder lo puoi fare questo mi è stato detto io non l'ho mai provato ma so che lo dicono allora sotto un altro page builder no non credo aspetta non credo sotto un altro page builder che si può cambiare tema senza nessun problema è vero nel senso che Elementor comunque ormai che hai costruito la pagina con Elementor il tema quasi che c'è o non c'è a noi non interessa infatti Elementor ha sviluppato un proprio tema che è vuoto proprio per non appesantire Hello Hello bravissimo infatti adesso quando prima non c'era questa cosa hanno aggiornato poco tempo fa quando scarichi il tema Hello ti consiglia anche di scaricare Elementor quindi magari si l'hanno fatto ah si si perché tra l'altro non lo so forse te l'ho già detto io ho scoperto Elementor perché due temi che avevo comperato un anno due anni fa mi hanno detto guarda noi abbiamo abbandonato page builder della site origin e adesso per favore devi passare Elementor che mi aveva anche deluso e ho detto ma scusami ma che modo di comportarsi è ma invece è stato veramente una perla perché scoprire che Elementor è stato veramente come incontrare veramente una grande una grande scoperta sì ma perché sono usciti veramente fuori dallo schema che era WordPress e template proprio perché alla fine quando acquisto un template giustamente erano sviluppati in quel modo dove tenerti a quello che compravi invece qui compri un tool che ti permette di sviluppare addirittura il tema da zero se vogliamo per questo magari è preso così piede ha veramente dato libero sfogo alla creatività un po' di tutti poi la semplicità di utilizzo cioè veramente è banale e nulla se volete posso condividere lo schermo così vi faccio e poi possiamo fare delle domande certo come no certo io ho detto di metterle nella chat e vediamo va bene allora intanto condivido ditemi se sentite sì sì io sento bene grazie Grazie a tutti. 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 Allora immagino che capisco che ovviamente vederlo così velocizzato, una persona che non segue più tanto. Se qualcuno l'ha usato... Io quando l'ho visto l'ho apprezzato molto. Se uno l'ha usato dice cacchio, è una roba incredibile. A tratto io ti avevo detto, ho visto che ogni tanto apri la finestra però del codice, perché mi ricevi per copiare il codice... No, in realtà non copiavo il codice, ma il sito Apple purtroppo non ti fa copiare i testi, li hanno bloccati semplicemente col mouse e quindi dovevo andare a prendere dal codice, per questo avevo il codice aperto e magari utilizzavo il codice colore che prendevo dal codice, niente di... Ah, il CSS e così niente? È tutto fatto tutto... Sì, 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 no, è tutto... Nessuna aggiunta. Sì, 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 è proprio... Sì, dal codice vedo una domanda di Jacopo. Nel caso Apple non riusciamo ad estrarre la fonte, riusciamo a sapere che fonte hanno utilizzato, però ovviamente Apple ha un fonte proprietario, quindi non lo troveremo neanche disponibile. Però in altri siti si... dal codice si riesce tranquillamente a capire quale fonte hanno utilizzato. Sì, poi Elementor offre diverse opportunità... Puoi caricare le fonti? Sì, puoi caricare addirittura un fonte tuo proprietario, quindi... Infatti sul mio sito personale, che c'era una fonte che non riuscivo a trovare così gratuitamente, e ho caricato una fonte fatta da me, che poi vabbè è abbastanza simile un po' alle altre, però io volevo quella e non c'era. E quindi ho caricato, ho implementato la mia, sì, sì, sì. Io, tra l'altro, ho avuto anche l'opportunità di vedere che non tutte le fonti ti permettono di fare i vari pesi, quelli del 100-900, non tutte le fonti sono pronte per quello, solo alcune. Eh, sì, sì, vabbè, questo capita soprattutto con le fonti meno sviluppate, infatti. Magari Elementor ti fa anche cambiare il peso, 100-300, ma in realtà resto uguale. Esatto. Ma tu avevi fatto esperienze anche con altri page builder prima? O sei passato subito a Elementor? No, no, in realtà prima utilizzavo, si è WP Bakery? Non so se WP Bakery è lo stesso o è Visual Composer? Visual Composer. Visual Composer è lo stesso? Anche l'altro giorno è venuta fuori questa storia, ma anch'io ne sono andato a cercare, ma non ho trovato una risposta. A me sembra di capire che Visual Composer continua a vivere, e invece quell'altro è un altro prodotto. Però non ho trovato, non è che ho perso tanto tempo ad andare a cercare, però ho sentito questa storia che sembra che fosse lo stesso prodotto. Forse sì, immagino di sì. Vedo che Jacopo ha inviato un'immagine. L'apri tu? Sì, io l'ho scaricata, se vuoi posso condividere. Allora, guarda, condivido lo schermo. Allora, Jacopo ha inviato questa immagine. Jacopo, c'è qualche richiesta in particolare? Non so se devo attivargli lo... Devo attivargli il... Jacopo? Allora, un'altra domanda. Non sono riuscito a capire come sfalsare le varie colonne, come nell'esempio. Ma hai utilizzato la gallery di Elementor? Jacopo, puoi parlare? Jacopo? Forse non ha... No, no, io gli ho attivato il microfono. Dovremmo poter parlare. Forse preferisci scrivere. Non ha un microfono. Sì, allora, sicuramente... Tu hai la versione premium, hai provato ad inserire la galleria ed hai provato ad inserire... Ad impostare mesori come visualizzazione. Immagino che tu abbia fatto in questo modo. In alternativa, se non ci riesci, puoi provare Crocoblock, che diciamo sono degli sviluppatori di plugin per Elementor. E stanno creando veramente il mondo per Elementor. Qualcosina che hanno sviluppato in realtà non è compatibile su alcuni browser tipo Internet Explorer. Infatti lì ho avuto un po' di problemi con il loro plugin. Però per il resto hanno creato veramente delle belle cose. Ci sono questi, scusami? Crocoblock. Puoi mandare magari sulla chat il nome? Sì, lo condivido. Giorgia, immagino benissimo che chi non ha portato... Purtroppo ho dei clienti in Svizzera che utilizzano solo Internet Explorer. Quindi lascio immaginare la mia difficoltà nel gestirli. Però fidati che Elementor fortunatamente è compatibile al 99%. Se resti in quello che è Elementor soltanto e non vai su plugin esterni, come in questo caso di Crocoblock, non riscontri problemi. O quantomeno fino ad ora non ne sono usciti. È che cerco di tenere i siti quantomeno dinamici possibili, anche se è brutta dirla in questo modo. Però cerco, non so, di limitare le parti dinamiche magari con l'inserimento degli articoli. Quindi creandomi campi dinamici e poi dopo li vado a personalizzare in quel modo. Altre chiamate JavaScript magari dell'evito. Così riesco a gestirmi. Niente, Jacopo non ci ha risposto, quindi non sappiamo. No, Jacopo dice che non ha il micro. Eh, sì, sì, vi ho letto. Lui chiedeva di come fare a sfalzare le colonne, ma non è che ho capito bene. Tu hai capito bene cosa? Sì, no, vedendo l'immagine in pratica lui ha due colonne. Ha due colonne. Nella prima colonna era divisa a sua volta in due colonne. E le prime due erano più basse della seconda. Nidificate. Nidificate in pratica. Sì, ma in realtà è una cosa che fa in automatico la gallery di WordPress, impostando a Mesori, che va a prendere... Allora, vi ringrazio? Uso la versione free, ecco. Sì, magari alcune funzionalità della versione free, cioè in realtà un bel po' sono limitanti. Sì, infatti con la free non riesci neanche a gestire footer e header, quindi a quanto pare, perché non hai l'elemento page builder, cioè non hai il team builder. E che poi adesso con gli aggiornamenti della free sono un po' indietro, perché da quando ho comprato la pro utilizzo solo quella, quindi non so cosa hai compreso e cosa non. Beh no, scusami, bisogna tenere tutte e due, no? O sbaglio? Sì, 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 però nel senso non faccio caso a quello che è la limitazione della free, perché avendo sempre l'assenzione della pro non mi rendo neanche conto. Però sì, mi rendo conto che avendo al solo la free è limitante. Magari, non lo so, magari prima di acquistarlo fatevi a dare una versione pro da qualcuno, almeno una testata e poi dopo l'acquistate. Scusami, per caso tu hai provato anche Divi? Allora, Divi sì, l'ho provato perché l'ho trovato in qualche tema. Non mi dispiace, però è lì lo stesso discorso. Magari poi adesso hanno fatto qualche aggiornamento, non lo so, perché ormai sono due anni che non lo utilizzo. Era comodo per il fatto che se scegli quei temi lì che ti danno a disposizione e segui il tema che hai acquistato, alla fine ci sta, cioè va bene, riesci a gestirlo. Però se vuoi fare quello che sto facendo io con Elementor, ovvero creare da zero un sito web, impostandolo così come lo vuole il cliente, senza dirvi, no ma qua dobbiamo fare così perché è impostato così perché non lo posso fare e immagino che con Divi non riuscirò a farlo. Poi come dicevo, adesso non mi sono più aggiornato. Ci dai qualche dritta anche su altri plugin che possono lavorare bene con Elementor? Guarda, io ho uno dei plugin che ho utilizzato ultimamente, purtroppo per mia sfortuna, troppo, è il WPML, quindi per le traduzioni. Ah, interessante questo, già. Sì, questo, guarda, ci ha sbattuto veramente la testa perché esistono 5-6 plugin gratuiti anche per Elementor che però poi ti limitano, tipo poli-language, dual-language. Però WPML costa, sembra, non è... Eh, allora, sicuramente poi dipende anche da cosa ne devi fare. Io dovevo fare 14 siti in 5 lingue. Immagina tu un po' quanto ho guadagnato di tempo acquistando WPML che è al 99% compatibile, c'è da dire, e anche ha un po' di limitazioni. Però per come è strutturato, cioè io con WPML cosa faccio? Faccio il sito in italiano, creo un account di collaboratore, in realtà di traduttore, alla persona che sa parlare italiano e tedesco. Lui ha solamente un'interfaccia dove gestisce le pagine in maniera solo testuale. Cioè a lui arriva il testo, in questa pagina c'è scritto a sinistra, c'è la parte italiana con buongiorno, mi chiamo Giuseppe, e a destra lui inserisce la traduzione. Prima invio, tu hai in automatico la pagina in elemento tradotta. Cioè io ho recuperato, a parte gli anni di vita, che mi sono... Immagini? No, infatti è stato un... Toccasano costa... Quello che ho pagato io costa 159 euro. Parli di WPML? Sì, siti illimitati. Anch'io ho comprato la versione che ti permette di gestire più siti. Eh sì. E quello è andato bene chi ha acquistato a suo tempo la Lifetime. Ah, c'era la Lifetime? Eh, ma bene o male, tutti i plugin appena escono per fare utenza danno questa possibilità. Purtroppo io con Elementor non ci sono riuscito all'inizio perché non c'era questa... No, infatti l'altra sera discutevano di questa faccenda del Lifetime e di vita la licenza Lifetime, mentre invece Elementor ogni anno devi innovare. Eh, ma vedi, questa qua secondo me è proprio uno dei punti che ti fa capire che Elementor è in forte crescita e Divi, per non perdere clienti pur di vendere, ti sta dando la Lifetime. Ma tu la leggi così? Eh, la leggo così per il senso fatto che Divi, per espandersi giustamente adesso, deve invogliarti in qualche modo ad acquistarla. Quindi tu dici che ne so, spendo 200 euro per Divi, non so neanche quanto costa. Però almeno ce l'ho a vita. Ma Divi, nel momento in cui arriverà a gestire tanti clienti, se ha regalato la Lifetime o se ha fatto acquistare la Lifetime, un domani non guadagna più. Quindi come fa a finanziarsi poi gli aggiornamenti? Un domani dovrà rimetterla a pagamento. Invece Elementor ha utilizzato un'altra strategia. Prima Elementor costava 69 euro, cioè era il pacchetto free e 69 euro, che adesso hanno portato a 159, a 199, adesso non lo ricordo neanche. Però il primo pacchetto di Elementor, che alla fine è quello che poi acquisti adesso, costava meno e non era Lifetime, è sempre durato un anno. Allora, qui abbiamo sempre, Pierpaolo, per sistema la galla in quel modo, come nella foto, non si potrebbe impostare le colonne, le foto, in modo che... Allora, Pierpaolo, rispondo alla tua domanda. Sì, però dipende se quelle foto vogliamo che poi siano fisse. Io avevo immaginato una situazione che magari quelle foto continuano, cioè magari vengono prese da fonti esterne, quindi, non so, sono dei prodotti o, non lo so, immagino una galleria a portfolio. Per questo avevo fatto la simulazione con un plugin. Però sì, si può fare anche come dici tu, tranquillamente, senza utilizzare i plugin esterni. Invece Andrea dice, DIVI sta cominciando a fare il plugin compatibile a pagamento. Ecco, vedi, giustamente da qualche parte devono guadagnare, altrimenti come fanno a... Andrea, se vuoi parlare ti... Andrea, no, sto rispondendo. Eccomi, mi sentite? Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao Andrea. Ciao, ciao. No, stavo semplicemente dicendo che è un periodo che mi capita di vedere che ci sono dei plugin che fanno cose molto particolari ma sono a pagamento. Adesso non mi ricordo per cosa, però ho visto questa cosa qua. Sentite, volevo... Scusami, Giuseppe, volevo farti vedere una cosa. Posso? Vai. Volevo farti vedere questa cosa qua. Eccolo qua. Che me l'ha segnalato l'altro giorno qualcuno. Sì. Lo conosci? Sì, sì. Anche questo giochino qua del mouse che è bellissimo questa storia qua. Sì, loro fanno in realtà delle implementazioni tirando veramente il sito abbastanza figo ma lo appesantiscono un bel po'. Ma così come Crocoblock c'è da dire. Quello che segnala tutto prima. Sì, sì. Capite, capite? Ovviamente, cioè per forza di cosa da qualche parte dobbiamo perdere se loro vogliamo il sito bello un po' di prestazioni sicuramente le perdiamo perché sono comunque delle... Io l'ho scoperto mentre chiacchieravo nel gruppo WordPress su Facebook e me l'ha segnalato adesso non ricordo più qualcuno che ha detto non lo so non so neanche cosa pensare non l'ho provato non vorrei appesantire appunto come dici tu mi sa che dopo si appesantisce tutto quanto. Allora, ma qualsiasi plugin ovviamente va a appesantire questi qui in particolar modo perché comunque ti vanno a modificare gli elementi quasi base di un sito web quindi un po' ti comporta. Ma tu calcola che questo questo plugin qui abbiamo regalato una Lifetime nel primo meetup che abbiamo fatto qui a Milano. Questo plugin? Sì. L'avete regalato? Sì, abbiamo fatto un sorteggio di tutte le persone che erano lì abbiamo fatto un fogliettino quando entravano. Ma ne avete regalato uno? Sì, uno, uno, uno. Sì, è a sorteggio, abbiamo fatto un sorteggio. Mi pento di non essere venuto. No, no, calcola che io neanche ce l'ho figura di Lifetime. che giustamente loro erano in contatto con Raffaele che è il leader della community e glielo avevano regalato a lui, lui l'ha testato e poi l'ha messo in regalo proprio perché voleva un po' incentivare. Una cosa molto bella e carina che mi è piaciuta in elemento era questa storia dei campi dinamici che puoi mettere i campi facilmente con delle query. Sì. Questa qui è potente, è una funzione che non ho mai visto onestamente. Allora, ti dà la possibilità di fare sia questo ad esempio che ne so il filtro per i post magari. esatto, esatto. Sì. Però ti dico anche di più. Ti dà la possibilità con un paraguini che si chiama ACF, custom field comunque. ACF. ACF, sì. Sì, esatto. Tu puoi impostare addirittura l'articolo e poi crearti la pagina dell'articolo con Elementor. Quindi tu ti vai a richiamare. Il custom field lo richiamare nel post. Cioè, ad esempio, ho creato per questo cliente lui deve inserire i progetti che realizza. Lui è un ingegnere e vuole dare anche la possibilità poi di scaricare il PDF. Lui avrà nel post, quando inserisce il post, lui ha oltre la parte di editor come di Gutenberg generica, quindi inserisce il testo, in automatico ha il campo personalizzato del committente, quindi lui inserisce il committente, hanno di produzione e carica il file il PDF da poter scaricare. Questo poi, una volta che hai configurato la pagina template dell'articolo, vai a richiamare poi tutti con il shortcut li vai a richiamare lì dentro. Sì. Giorgia dice, vi trovo su meetup.com? Sì, c'è, c'è. Sì, sì, ho appena trovato il gruppo. Mi sono risposta da sola. Scusate, grazie. No, figurati. No, è che purtroppo siamo fermi perché noi dovevamo fare anche noi il secondo meetup a Milano, Dive, e ci ospitava un'azienda a Cafar, si chiama, che è una zona naviglia, a Milano, non so se voi siete tutti a Milano o meno, e purtroppo giustamente data la situazione abbiamo rimandato e abbiamo fatto tutto online. Ma appunto, ne farete degli altri online o no? Allora, sì, l'idea è quella comunque di portarlo avanti. Il problema è che noi siamo semplicemente dei, cioè, siamo, sì, in pratica. Veramente, io non ho tempo di... È un po' il problema di tutti. Ma immagino, ma soprattutto in questo periodo per chi fa il nostro lavoro, immagino, c'è ancora più lavoro di quanto ce n'era prima, quindi... Micamai a Milano che ospita un sacco di meetup. Guarda, magari... Sì, è vero, è vero. Giorgia, tu vai sempre lì a Micamai. Ma io in realtà non sono di Milano, però ci sono stata per un meetup degli indie hackers, anche la community di WordPress fa i meetup da Micamai. so che ospitano diversi meetup e credo sia... Forse Andrea Ronchetti lo sa che anche lui è del gruppo, credo che sia... che gli dia gratuitamente gli spazi. Ma scusami, non vuoi formarti. Ma Giorgia, tu ci hai conosciuto grazie al meetup o che cosa? Questa sera... Mi ha parlato di voi un'amica che è di Milano, che è della community WordPress di cui faccio parte anch'io, che però lei a Milano fa parte, va in diversi gruppi, segue diversi... meetup. La Simona Simionato, dite qualcosa al nome? E lei che mi ha parlato di voi e mi sono aggiunta al gruppo. La conosce anche Ronchetti, Andrea. Esatto. Però dal vivo non sono mai riusciti a venire a uno dei vostri meetup. No, no, sono molto interessanti. Adesso non so più, forse Andrea sa più di me. Andrea, cos'è il meetup di WordPress a Milano? Chi è che vive? Boh, sono... Allora, abbiamo fatto di recente un meetup online su Facebook insieme al meetup di Catania. Sì, quello di Cagliari. Di Cagliari, è vero. Scusatemi. No, l'ho visto, l'ho visto. E niente, poi vabbè, cerchiamo sempre di fare il meetup mensile e ogni volta parla qualcuno di diverso e niente. Adesso penso che ci sposteremo anche noi su Zoom per fare i prossimi. Perché comunque, vabbè, il problema di Facebook era che non c'era abbastanza interazione, nel senso che devi per forza scrivere, mentre Zoom ti dà anche la possibilità di parlare, di insomma... Esatto, esatto. bello. Ma hanno già trovato chi li ospita o no? Perché magari possiamo chiedere a Spencer. Ma allora, ultimamente li avevamo fatti a Talent Garden o mica mai? No, no, ma voglio dire, quelli virtuali su Zoom possiamo chiedere a Spencer se ci ospita. Ah, va bene. Prova a dirglielo, perché io prima, voi vi siete persi le prime battute, forse eravate tutti... Io sono entrata dopo due o tre minuti in un waiting room. No, io l'ho sentito di Spencer che sta sponsorizzando il meetup di questa sera. Sponsorizza la faccenda e di conseguenza potrebbe essere diciamo l'host... 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 Esatto, esatto. Sì, a Verona, ad esempio, io faccio parte della community di qua a Verona che è a Itosu Lago di Garda e abbiamo acquistato un account pro per un anno grazie al nostro sponsor che di solito ci offre pizza, patatine e quant'altro. Vi abbiamo chiesto per questo periodo di dirottare la quota mensile sull'acquisto dell'account di Zoom e abbiamo fatto così. Sì, tra l'altro in questi giorni appunto questi sistemi stanno andando alla grande. Io tutti i giorni devo provarne uno diverso dall'altro perché... Però, vi devo dire una cosa, quello che ha fatto... Non so, Giuseppe, se hai visto quello che è stato fatto su SiteGround è grandioso, eh. Non so come si chiama... L'hai visto? No, in realtà no, non l'ho seguito. Adesso non me lo ricordo più ma è molto bello perché ti permette di mettere le due figure, l'interlocutore e l'intervistato. Sì, loro usano Crowdcast, sì, è vero. Crowdcast, è già, Crowdcast, è molto, molto, molto bello. Ma non so se ha qualche funzionale in più anche Zoom perché tipo ieri leggevo per un'amica che deve fare degli streaming live comunque che può farli anche tramite Zoom, cioè qualche modo per implementare Zoom in qualche sistema. Sì, non mi sono poi più informato perché sto laggiando un progetto che partirà lunedì e quindi sto sotto consegna e non ho avuto il tempo di fare niente. Senti, invece sulla questione dell'integrazione tra Scusami, tra Gutenberg e Elementor. Tu che cosa ne pensi? No. Quello che consiglio è di usare Elementor per fare le pagine. istituzionali e poi invece per gli articoli usare Gutenberg. Secondo me le cose convivono. Sì, soprattutto se poi gli articoli dovrà gestirli chi comunque non gestisce, non sa mettere mano vicino a WordPress ovviamente, ma soprattutto perché creando gli articoli con Gutenberg da qui ha dieci anni, da qui ha due anni. che mettiamo caso che Elementor domani mattina fallisce. Tu non puoi esportare tutti gli articoli perché sono nella pagina quindi li hai persi. Invece con Gutenberg che poi ti crea in pratica un articolo puoi esportare gli articoli e puoi rimportarli anche in un altro tema che hanno fatto con Elementor. Esatto, a proposito di quello che hai detto anche sul fatto che chissà cosa succederà domani si mormorava che addirittura allora in Elementor da quello che leggo sui vari web che parlano di queste storie sembra che hanno raccolto un bel po' di milioni da quello che ho letto. Lo diceva l'altra sera la signora di SiteGround hanno raccolto diversi fondi quindi sembra che siano una società molto forte molto forte. No, ma guarda forse proprio a te lo dicevo un po' di tempo fa in qualità io alla fine con Elementor non ho nessun tipo di rapporto se non comunque quello di un semplice fruitore e sicuramente sono anche per loro una bandiera perché ovviamente poi ne parliamo bene e quant'altro ma ne parliamo bene non perché mi pagano ma perché mi trovo bene davvero e loro per Natale mi hanno inviato un set con la borraccia che è sempre con me la borraccia ufficiale di Elementor con la t-shirt vari blocchetti comunque c'è un'azienda che ti fa un regalo del genere ad oggi non la trovo non la trovo facilmente cioè che poi voglio dire è un pensiero però a livello gratuito sentite ci sono altre domande mi sentite sì volevo fare una domanda che magari mi posso spiegare bene così ok io avevo una diciamo una curiosità come ti comporti io ad esempio ho dei clienti che vogliono aggiungere gli articoli autonomamente se tu crei il template diciamo del sito internet da Elementor cioè utilizzi la funzione Elementor Canva cioè pagina bianca crei footer e navbar come ti comporti con gli articoli che vengono fatti da Gutenberg che prendono però il template del tema di WordPress no allora ti rispondo subito in pratica devi creare tu hai la versione Pro giusto? no no io ho quella 3 allora questa è una limitazione perché con la versione Pro tu in pratica vai a creare il template per la pagina articoli quindi una volta che tu ti crei quel template lì tu dici che in quel template in quella sezione tu vuoi il testo dell'articolo in quell'altra sezione inserisci un'immagine e la linki all'immagine in evidenza dell'articolo quindi proprio con la versione Pro si può creare proprio il template anche per quanto riguarda articoli portfoglio sì perché questo problema sorge quando ho un cliente che vuole appunto pubblicare autonomamente i contenuti non posso fare un articolo lui dopo gestirà gli articoli così come digestisce in qualsiasi altro WordPress senza Elementor quindi aggiunge articolo inserisci titolo in Gutenberg inserisci descrizione in Gutenberg inserisci immagine in evidenza e in automatico te la trasforma così come io ho dovuto infatti capire modificare il CSS del tema per farlo simile al campanini però no vedi ti conviene acquistarlo sì sì perché soprattutto se gestisci uno due clienti tre clienti cinque clienti l'hai ripagata tranquillamente a proposito Giuseppe e per la SEO ma per la SEO io utilizzo iOS SEO che comunque lavora bene qualcuno ha sollevato questa storia ma non ho capito perché perché secondo me non dovrebbe esserci nessuno secondo me perché a livello personale perché l'elementor è pieno di codici che possono bloccare un po' la scandalizzazione delle pagine da Google però vedi se fai nel metodo che ti dicevo prima che tu inserisci il post o l'articolo proprio in Gutenberg in realtà in quel caso non cambia nulla esatto ma anche in generale conviene per questo motivo perché proprio sugli articoli almeno c'è codice puro e non viene a me quasi in ogni caso se si fa una sitemap e si è veloce non ci sono problemi sì no no infatti infatti sicuramente comunque grazie di aver risposto sì figura vi fa un piacere ci sono altre domande volevo aggiungere Pierpaolo che tra l'altro template lo puoi fare anche per diverse pagine ossia poniamo il caso che tu hai la rubrica che so io belle storie e la rubrica brutte storie fai due template diversi benissimo per categorie diverse sì sì perché appunto ho la versione free quindi appunto sarò molto limitato però sai Giuseppe cosa io trovo abbastanza non speravo che una volta che io abbia scelto del core template possa cambiarli quando sono nella fase di edito dell'articolo e posso dire per questo articolo scegli istituzione il posto di Caio invece lo fai solo in base alla categoria non puoi una volta che tu hai scelto di stare sul template modificarlo o sbaglio allora allora aspetta un attimo perché a me era capitato a me io l'ho utilizzata con con WooCommerce quindi sono andato a creare il template prodotto e in realtà io lì avevo la possibilità di selezionare perché avevo creato un template per la vendita di corsi e un template per la vendita di alcuni preset e in realtà io potevo selezionare il template quindi adesso mi viene il dubbio perché non posso farlo anche con i post probabilmente c'è la funzione e la trovi a destra ah però non puoi farlo da Gutenberg devi per forza andare dentro in elemento no 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 sempre da Gutenberg vai a selezionare il template però magari forse a destra il fondo sulla destra dove scegli dove immagini in evidenza ho capito ho capito ho capito però non ti voglio dire una bugia perché io lì comunque stavo utilizzando anche il plugin di Crocoblock che mi gestiva WooCommerce quindi non vorrei che era per quello non è di default però ci proverò comunque una cosa che hanno implementato veramente da 15 giorni l'ultimo meetup che abbiamo fatto era un mese fa 20 giorni fa hanno implementato che prima non era così quando sto lavorando in una pagina spesso è capitato che tu hai creato la pagina poi devi aggiungere questa pagina al menu se non è impostato che il menu se lo prendi in automatico quindi dovevi uscire andare nella sezione header che avevi creato e quindi andare ad aggiungere le pagine adesso invece quando stai lavorando in una pagina puoi modificare direttamente anche header e footer sì sì quello che l'hai detto prima sì sì puoi cambiare leader e footer esatto ma adesso prima per farlo dovevi diciamo aprire la sezione dedicata a header o a footer invece adesso puoi farlo direttamente nella pagina ok ok sì no no benissimo ci sono altre domande perché altrimenti io chiuderei visto che abbiamo fatto un'ora penso che sia più che sufficiente giusto poi magari ci teniamo anche in contatto nel gruppo io volevo dire appunto una cosa sulla velocità per dare magari chi ha questo dubbio sulla velocità come cioè io ho avuto un problema simile qualche tempo fa su un sito che aveva un sacco di effetti di movimento e transazioni quindi era la 4-5 secondi un caricamento vabbè oltre a ottimizzare le immagini queste le best practice che si devono fare ho utilizzato un plugin consigliato dal page speed di google che si chiama amic bird se non sbaglio e modifica proprio gli asset del css quindi se tu sai dove andare a bloccare ha migliorato molto la velocità quindi è quello che ti trasforma il sito in amp no diciamo che va a prendere tutti quei codici css e li fa minimizzare tutti quanti però se non stai avendo devi stare molto attento sia anche per fatto della cache perché se blocca comunque a volte le visualizzazioni di elementor quindi un po' ti devi fare attenzione però funziona funziona veramente bene questo in pratica ti minimizza il css sì sì ma funziona perfettamente allora io non l'ho utilizzato perché a me questa funzione me la dà direttamente il direttamente il site ground optimization perché la tengono inclusa in realtà quella che mi incuriosisce è che in realtà non ho ancora provato perché ho iniziato a testarla poi dopo ho avuto problemi di compatibilità che giustamente mi trasformava il sito in amp per farlo per velocizzarlo soprattutto da mobile e ci devo ci devo studiare un altro po' su quello lo so lo so però è bene magari se c'è qualcuno che vuole fare un meetup su amp graditissimo sì io lo uso però appunto in una maniera abbastanza così l'ho messo lì ma non so neanche cosa sta facendo se sta veramente lavorando no ma è perché io l'ho cominciato a testare però mi dava problemi poi di visualizzazioni perché giustamente lì cambia cambia tutto ma tu hai preso quello ufficiale della di wordpress perché ce ne erano altri e non due o tre sì se non sbaglio era quello ufficiale quello di wordpress sì 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 che poi sicuramente giustamente meglio la velocità che la parte grafica per l'amor di dio però se poi mi sbarelli il mondo aspetta un attimo preferito cioè a tratti ho preferito il mio sito più lento ma più carino no 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 vabbè certo però